Davide Ruffilli, neopreparatore della città di Termoli, state sudando da circa dieci giorni, state lavorando tanto per cercare di accelerare. In questa prima fase stiamo lavorando soprattutto per dare condizioni di base come la potenza aerobica, stiamo facendo un lavoro specifico del genere. I carichi di lavoro sono notevoli, quindi in questa fase i ragazzi sono molto affaticati. Che riscontro hai avuto da questa impressione, soprattutto da queste prime giornate? Devo essere sincero, un gruppo di ragazzi bravi, motivati, con un grandissimo spirito di sacrificio, la dirigenza è una dirigenza molto motivata e un mister molto preparato. Un ragazzo in gamba che conosco da un po', è una persona che ama tantissimo lavorare sul campo. Tu hai lavorato tanto anche nel passato, soprattutto a livello professionistico, lo ricordiamo che sei stato alla Vastese. Sicuramente un'esperienza importante quella che porterai in questo città di Termoli per far crescere questo gruppo, per farlo trovare pronto per il campionato, che è l'obiettivo principale. Certo, il discorso è che con il lavoro metodico fatto quotidianamente sul campo si ottengono risultati. Sono ragazzi che alla fine molti sono fuori quota, devono crescere. Invece ci sono gli over che sono persone che hanno già calcato questi palcoscenici, quindi sono persone già preparate soprattutto al sacrificio fisico e atletico. Quando influisce in questo periodo il caldo terribile tra l'altro su questi ragazzi che hanno ripreso a correre dopo quasi un mese e mezzo o due mesi di fermo? Inizialmente incide notevolmente, solo che c'è il periodo di adattamento di una decina di giorni, 15 giorni, dove loro si possono facilmente acclimatare. Poi il caldo purtroppo c'è, ci dobbiamo adattare. Gli diamo un attimino più dei tempi di recupero maggiore, quindi i ragazzi sono pronti nel tempo a stare anche sotto a queste temperature che sono veramente africane. A battuta finale si parla di entusiasmo, che dovrebbe essere il perno importante e principale della nuova stagione. Hai trovato entusiasmo in questo gruppo? Assolutamente sì, perché sono coscienti di tutti i ragazzi di appartenere ad un gruppo competitivo e con grandi obiettivi da raggiungere, quindi sono consapevole di questo. Il mister è stato chiaro, quindi ormai la società ha dichiarato in maniera esplicita l'obiettivo che è uno solo, quello di cercare di salire interregionale.